Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra. Una partita fondamentale quella che ci sarà fra qualche ora. Importantissima, soprattutto dopo i risultati di ieri, soprattutto dopo la caduta della Lazio, ormai la Roma fuori dai giochi, ma soprattutto dopo le vittorie delle due milanesi, Inter e Milan. L'Inter soprattutto ha 63 punti già agganciato, 61 punti Milan, siamo tutti là. L'Atalanta che con un'eventuale vittoria ci aggancia, sia non so anche l'Atalanta lì. L'Atalanta nelle ultime cinque vittorie consecutive, uno stato di forma ottimo. Sì, c'ha un po' in questa stagione abituati un po' ad alternanti, però sono tre vittorie consecutive, significa che è ritornata all'Atalanta in maniera prepotente, in maniera organica. lotta scudetto, lotta scudato, lotta champions. E oggi vorrei, perché vorrei, perché ormai è un qualcosa che non possiamo più sperare in una Juventus che giochi a calcio. Il calcio per la Juventus, non c'è un gioco nel calcio, non esiste nella mentalità Juventus ormai. Non è stato un allenatore che ha inculcato nella Juventus la mentalità calcio. Ma dobbiamo pregare e sperare che oggi siano di pena alcuni giocatori, che possono fare differenze in questa squadra. Oggi bisogna lottare, oggi bisogna lottare per raggiungere questo obiettivo, la vittoria dei tre punti scavalcare la Lazio. E non voglio sentirmi dire, è inutile conquistarsi la Champions, tanto ci butteranno giù. Non voglio sentirmelo dire, nulla è perso. Intanto, l'ho fatto ieri questo video, l'obiettivo è il secondo posto in questo momento. Minimo quarto, ma adesso in questo momento dobbiamo lottare per il secondo posto. E noi tifosi speriamo di vedere una Juventus cattiva, sportivamente, è meglio precisarlo. Cattiva! Una Juve che va sul campo per capire effettivamente, per dare l'input della vittoria. Voglio vedere una Juventus cattiva! Perché solo così possiamo raggiungere un minimo di tranquillità per una svolta di una partita che ci possa portare alla vittoria. Perché se giochiamo sotto ritmo, ci mettono sotto. Ve l'ho sempre detto, la Juventus soffre squadre che giocano a calcio. E l'Atalanta è una di quelle. Contro il Lecce abbiamo vinto. Alcuni giocatori finalmente hanno espresso le loro qualità. Tren di Paredes. Una partita, già si parla di un possibile ripresa, speriamo di no. Ma il Lecce ha giocato a viso aperto, ha avuto le sue occasioni, non demeritava così tanto questo Lecce. E se lasciamo l'iniziativa, questo ho paura, all'Atalanta, rischiamo di farci male. Rischiamo seriamente di farci male. L'Atalanta giocherà a Guerrida perché sa benissimo anche lei che questa è una gara fondamentale. È un passaggio importantissimo per agganciare il treno Champions. Soprattutto, ragazzi, dobbiamo approfittarle che ci sarà uno scontro diretto in Champions tra le due milanesi. E ve l'ho detto, tra l'andata e il ritorno, chi esce, chi esce, occhio che si farà male in campionato. Ma non solo, può anche essere chi vince, perché con la testa non ci sarà presente, occhio eh. Ma soprattutto a chi perde, perderà stimoli, perderà concentrazione, sarà sbandata, perché stiamo parlando a un passo da una finale, finale di Champions League. Quindi noi, sì che abbiamo l'Europa League, ma dobbiamo, l'unico obiettivo nazionale, prenderci questo posto in Champions. Ma abbiamo anche la possibilità di prenderlo al secondo posto, non al quarto. Quindi noi, l'errore che non dobbiamo commettere, non ci dobbiamo guardare dietro, ma dobbiamo guardare avanti. Perché ve l'ho sempre detto, e ve l'ho detto ieri in un video, il nostro obiettivo è su, non giù. Non voglio vedere gente che si autofligge una sconfitta, dice basta, è finita, oh, il nostro motto è fino alla fine. Fino alla fine con la nostra Juventus, ragazzi. La formazione, si parla di un 3-5-2, di Maria Plaovic, scusate, di Maria Plaovic, Miretti, Fagioli, Rabiolo, Catelli, Quadrado. Difesa ai tre brasiliani, Bremer, che a tre si esalta, gioca meglio, si trova meglio con quel tipo di modulo. Però bisogna anche dire che la Juventus con il 3-5-2 fa molta fatica. Fa molta fatica a salire su. Non capisco perché non riusciamo a mai avere un modulo, un modulo ben preciso. Non capisco perché la Juventus è stata costruita sul 4-3-3 e questo 4-3-3 non esce mai. Abbiamo Di Maria, Di Chiesa, o uno dei punti avanti. O giocare con le ali con dietro Di Maria, che possa smistare palloni, l'unico che lo sa fare bene. Locatelli, ragazzi, non è un regista, ve l'ho sempre detto. Però purtroppo il nostro allenatore si fissa a cambiare moduli, 100 moduli ogni volta diversi, con giocatori 30.000 volte diversi, con posizioni completamente diverse, ogni santa volta. Non creiamo pericoli e se le creiamo non riusciamo a concretizzarli. La mia paura è questa e spero che questa mia paura venga smentita. Spero che questa mia paura non possa effettivamente realizzarsi. Scusate. La Juventus gioca in questo modo. Con l'Atalanta non puoi solamente difenderti, ma devi principalmente attaccare. Puoi difenderti perché è normale, nella partita devi difenderti. Però non come abbiamo sempre fatto fino adesso. C'è una Juventus bassa, schiacciata, se gli dai modo all'Atalanta di palleggiarti in faccia. Prima può ti fa male, perché ha le qualità ai giocatori per inserirsi, negli inserimenti. Quello che noi oggi eventualmente non porteremo dal primo minuto in campo. Non abbiamo esterni adesso che possono inserirsi. Se non sbaglio Kostic non gioca neanche. Ok, stavo già guardando la partita dell'Europa League, ma abbiamo bisogno di quello. Noi adesso abbiamo due fronti davanti. Campionato Europa League, punto. Dobbiamo dare il massimo. Tutti. Tutti. E il primo deve essere allenatore con una mentalità diversa. Deve dare una mentalità diversa a questa squadra nelle ultime partite che sono fondamentali per noi. Fondamentali ragazzi. Non ci può adesso mettere questa cazzo di mentalità da perdenti. Perché abbiamo una mentalità provinciale da perdente. Andiamoci e giochiamo. Perdere per perdere. Voglio giocarmela a viso aperto. Perdere per perdere. Sganciamo questi giocatori che abbiamo. Facciamoli giocare a calcio. Facciamoli divertire. Comunque ragazzi. Io farò una live. Farò la live su YouTube. E chi, perché questo video pubblico anche su TikTok. Chi vuole e venrà sul mio canale YouTube farò una live di questa partita. All'Atalanta e Juventus. Mi raccomando ti aspetto in tanti. Ci vediamo più tardi praticamente. Un saluto a Zebra. Ciao.